In Abruzzo ci sono oltre mille famiglie che vivono nel settore dei service per lo spettacolo, molte anche all'Aquila, che stanno subendo una crisi gravissima a causa del blocco del settore con la perdita del 60% del fatturato. Sono aziende che forniscono servizi tecnici, audio, video e luce al teatro, agli spettacoli dal vivo, ai convegni e che sono praticamente ferme da inizio pandemia. 46 aziende hanno deciso di riunirsi nell'associazione Alza Abruzzo, di cui è presidente l'aquilano Carlo Volpe. Quello che chiediamo ovviamente sono programmare una ripartenza certa, è la cosa principale perché immaginiamo che da qui altri 5, 6, 7 mesi la situazione non cambierà rispetto a quella di oggi, assolutamente drammatica. Siamo completamente fermi, lo potete vedere, i bavuli sono tutti qua, siamo da un anno che siamo fermi, quindi abbiamo bisogno di supporto finanziario, ristori, di argomenti che potremmo cacciare moltissimi e abbiamo bisogno che riprogrammiamo una partenza sicura, lenta ma certa, non ci può essere altro modo, dobbiamo farlo insieme. L'associazione è nata per darci supporto vicendevolmente, per aiutarci tutti insieme a superare il momento, abbiamo bisogno che le istituzioni ci supporti e ci dia supporto in qualche maniera, finanziario e anche di assistenza al programmare la ripartenza. Aziende che hanno anche un indotto importante, che hanno tanti lavoratori, famiglie in difficoltà. L'associazione cercherà anche un'interlocuzione a livello comunale e non solo, del resto molti service collaborano da anni con la perdonanza celestiniana di agosto. Noi non incassiamo, l'anno scorso abbiamo incassato il 40% del fatturato che facciamo normalmente, però le spese ci sono, le utenze normali, le tasse, i dipendenti vanno supportati, perché nel caso noi abbiamo dei dipendenti che hanno moglie e figli che con la cassa integrazione non riescono a supportare e quindi in qualche maniera noi ci facciamo da garanti anche per loro, perché per noi supportare il nostro personale è fondamentale. Non potremmo ripartire, quando i bauli si rimuoveranno, i bauli non si muovono, si muovono con il nostro personale. Certo noi vorremmo interloquire con le istituzioni a livello locale, a livello regionale e a livello nazionale per cercare di parlare di questa ripartenza che mi preme sottolineare fino allo sfinimento.